Simone, sei tu? Che cazzo sei? Che stai? Guido, ma che succede? Non è questa. Dimmi te che mi fai fare straordinario pure l'ultima notte dell'anno? Ma che è? Ha rivoltato i personaggi? Ma che ti ha rivoltato i personaggi? Mi scrivi sempre queste scene complicate, piene del gente. Ma fa molto vandana. Ma che te vandana? Che poi io non mi separo mai dalla mia pistola. Mi mandi al cesso senza pistola. Vabbè, tutta questa storia è una pistola. Con pistola. Cambiamo. Ho capito, ma mi hanno già menato. Te gonfiano le botte, è vero. Ma chi vince sempre te? Chi vince sempre? Io. Ma sto da solo, dai. Ma questa donna che mi hai promesso, quanto sta? Ah, sta a scrivere? Eh, sta a scrivere. Ma immaginavate un ciparex senza una donna? Eh no. Guesi. Vabbè, Guesi. Scarfè, salpacino, leone. Pure leone c'è la ragazzetta. Ma che ragazzetta? Undici anni, una bambina. Non te la scrivo a bambina. Diciassett'anni. Ok, però la voglio Cinqueen. Come si scrive? Cinqueen. Cinqueen. Oh, su Google c'è scritto, mi ha neprimata la tombola. Ma poi dico no. Ti dici che ti pezzi di casa per le scenografie. Questa era una scena precedente, che pezzi che mai sono accorto? Oh, la produzione impaga, che vuoi? Domani scatta l'anno X, hai capito? Il 2014. Comunque, buon Capodanno. Ecco, mettiti il cappello e va a far codeghi, no? Il cappello non muovito. Preferisci le corna? Hanno i due. Bambina.